Buongiorno, sono Giulio Porti. Per chi mi conosce sono un medico, pediatra, analogista da circa vent'anni. Vent'anni fa mi è occorsa l'avventura di conoscere Stefano bene meglio e quindi di appassionarmi alle discipline analogiche. Oggi mi intratterrò sulla unità mente-corpo da un punto di vista biologico. Intanto, prima di tutto, lasciatemi ringraziare Stefano bene meglio, Samuela, Stano e Lupda in genere, per avermi invitato a fare da relatore in questa importantissima giornata. Il tema di oggi, se mi compete, si intitola Le emozioni nel teatro del corpo e il sottotitolo dice Il Soma come palcoscenico dove si rappresentano i drammi del cuore, delle emozioni insomma. Oppure ancora il corpo giocattolo della mente. O ancora le emozioni creano e le emozioni distruggono, in senso proprio biologico, di cellule, di connessioni fra cellule. E ancora la biologia di una persona riflette la sua biografia. A significare che io sono quel che sono per tutto quello che mi è capitato, da un punto di vista emotivo psicologico, per tutto quello che mi è capitato nella vita. Ma non solo, eredito anche qualcosa dai miei antenati relativamente alle ferite emotive. Per arrivare alla magica sintesi dei romani, in senso di datini antichi, mens sana in corpore sano. E potrei continuare veramente a lungo con questi aforismi, con queste affermazioni, che hanno tutto in comune il tema dell'unità mente-corro. L'unità mente-corro che viene studiata da una disciplina medico-psicologica-filosofica che si chiama psicosomatica. Oggi desidero esporvi le prove biologiche che confermano questa unità, mente-corro. Questa unità si realizza attraverso, per mezzo, di sostanze chimiche che vengono prodotte dal nostro organismo, quando è sottoposto a uno stimolo emotivo. Sono le cosiddette molecole di emozione. In altri termini, sotto uno stimolo emotivo, il nostro organismo produce delle molecole che vanno a modificare l'espressione dei geni, come vedremo fra poco. Sono molecole misurabili, quantitativamente, individuabili nell'organismo umano. Quindi la unità mente-corro non è più una semplice ipotesi sostenuta da un'osservazione degli eventi che occorrono alle persone sottoposte a stimoli emotivi, ma è una realtà concreta. Concreta perché può essere evidenziata dalla indagine biologica. Qualsiasi esame per sangue, per esempio, o anche qualsiasi esame per immagini radiologico o quant'altro. Cominciamo a definire la psicosomatica. Cos'è la psicosomatica da un punto di vista proprio della teoria? È la disciplina che si occupa delle emozioni come fattore di insorgenza e di guarigione delle malattie. Già subito dice che le emozioni possono essere fonte di malattie, ma possono anche guarire dalle malattie. Malattie non soltanto emotive e psicologiche, ma malattie anche fisiche, dell'organismo, del corpo, vuoi funzionali, vuoi organiche. Cioè sottintende già, come nella sua definizione iniziale teorica, l'unità assolutamente corpo e dice che le emozioni sono il ponte che unisce la mente e il corpo. Le malattie, quindi, sotto questo punto di vista, specie se croniche o recidivanti, non sono altro se non la spia di un conflitto emotivo che si realizza nella mente. Ecco l'origine del titolo. Le malattie sono un dramma che si manifesta nel corpo, ma che viene ideato, che nasce nella mente. Quindi, stante questa definizione, la guarigione vera arriva solo con la risoluzione del conflitto emotivo. Senza risoluzione del conflitto emotivo non c'è vera e completa guarigione. Ma c'è un'altra conseguenza relativa a queste premesse, e cioè che, conoscendo i dinamismi emotivi, noi possiamo guarire dalle nostre malattie scovando quello che si chiama il guaritore interno, che è il pensiero armonizzato della armonia intesa mente-corpo. Detto così, quali sono, quindi, le differenze con la medicina tradizionale? Le differenze sono queste, proprio da un punto di vista teorico. Che la medicina tradizionale si basa, per capire, per giustificare l'arrivo delle malattie, si basa sulle cause efficienti. Quali sono le cause efficienti? Virus, batteri, inquinamento, eccetera, eccetera. Mentre la medicina psicosomatica, la visione psicosomatica della medicina, si basa sulle cause finali. In altri termini si domanda, ma perché esistono le malattie? E la risposta che si dà è che esistono perché sono un campanello d'allarme che ci dice attento, tu hai un disagio emotivo. curati pure la malattia del corpo, ma per guarire veramente, curati anche il disagio emotivo che questa malattia sottinteggia. vi chiedo scusa, un attimo solo. La malattia quindi è un allarme. Ok, ripeto, curiamola pure, con rimedi allopatici, omeopatici, purché ben sperimentati, ben compresi e quant'altro, però ricordiamoci anche della nostra mente. Quindi, come abbiamo detto e ripeterò ancora più volte, il concetto fondamentale della medicina psicosomatica è questa unità in un'unità in un'unità utilemente corte. Per dire? Allora, il concetto è presente fin dall'inizio, diciamo così, dai primordi dell'uomo. La medicina antica, dei primitivi, dell'uomo di Neanderthal o quant'altro, riconosceva il fatto che fosse un fattore, diciamo così, estraneo al corpo che provocasse le malattie. Quindi, che ci fosse una causa ulteriore, oltre a quella efficiente della medicina tradizionale, era nelle corde. Soltanto in due secoli, nel 1700 e nel 1800, c'è stata una, come posso dire, un deragliamento, dove non è stata mai più considerata in maniera valida questa connessione mente-corpo. E lo vedremo. Per esempio, l'uomo primitivo, cosa diceva? Cosa pensava delle malattie? Le pensava a causa di una offesa alla divinità. E come le curava? Le curava sì con rimedi, ma c'erano gli sciamani che facevano anche sacrifici agli dei. D'altra parte, se noi leggiamo l'Antico Testamento, vediamo che le popolazioni coeve all'era descritta dall'Antico Testamento pensavano che le malattie dovessero essere un castigo per i peccati commessi, vuoi dall'individuo stesso che si era malato, vuoi a causa dei peccati, e quindi delle offese a Dio, dei suoi genitori o addirittura predecessori, fino alle settima generazione ascendente. Il primo a cercare di dare dei fondamenti scientifici alle malattie fu Ippocrate con la sua teoria umorale, eccetera. Vedete bene che la teoria di Ippocrate, la teoria umorale relativa allo squilibrio dei quattro umori di cui si compone il corpo umano, durò addirittura 2000 anni con alti e bassi. Ed è una teoria che quindi è stata superata soltanto ultimamente proprio in seguito alle ricerche di cui parleremo. Anche Galeno, per esempio, il famoso medico del secondo secolo dopo Cristo, diceva che ci sono due momenti al letto del malatto. Prima il colloquio, l'indagine psicologica, e poi la visita al malatto. E peraltro, come dicevo, i latini dicevano Mense sana in corpore sano. E questo fu, come posso dire, l'idea dell'unione mente-corpo che durò fino al 1600. Al 1600 arriva Cartesio. Cartesio, che è una, come tutti sappiamo, un filosofo matematico, ipotizza il dualismo tra res extensa e res cogitans, come chiamava lui, la materia e lo spirito. E dice che fra queste due entità non ci può essere un collegamento. Poi afferma che questo collegamento può avvenire per mezzo dell'epifisi, eccetera, eccetera. Tuttavia, la sua teoria del dualismo spirito-materia si radica anche nella medicina del tempo e si unisce alla scoperta dei microbi che possono essere visti per via del microscopio che in quegli anni lì veniva messo a punto. Allora, col microscopio si vendono i microbi, si vedono i microbi che invadono gli organi, il singolo organo piuttosto che non uno o l'altro, ed ecco che allora si dice che si afferma che la malattia è legata all'invasione dei vari organi o l'uno o l'altro o l'altro da parte dei microbi, batteri o quant'altro. Quindi nasce da lì la medicina specialistica e il corpo umano viene letto come un assemblamento di vari organi, quasi fosse, che so, un'automobile che in quei tempi non c'era ancora, ma insomma. Questo per dirvi come il pensiero dualistico di Cartesio che invade la medicina e in questi due secoli, 1600-1700, prende piede con un entusiasmo che a un certo punto esclude un po' l'aspetto mentale, psicologico, prima presente. Nel 1800, Hahnemann inventa l'omeopatia e quindi ricomincia con una sorta di pensiero ulistico a riunire mente corte. Hahnemann è un soggetto un po' particolare, odia Cristo, ama Confucio, e inventa questa omeopatia che tutti lo sappiamo essere quella disciplina terapeutica che cura con simili, simili a simili bus curanti, cioè con farmaci che all'ennesima direzione sono comunque quelli che sarebbero stati causa della malattia che si vuole curare. Nel 1850, questo breve escurso sulla storia della psicosomatica, vede che nel 1950 c'è una grande polemica tra Louis Pasteur che afferma che in qualsiasi caso della malattia è inizita nei batteri, mentre Claude Bernard afferma che dipende da un abbassamento delle difese immunologiche, già cominciando a prospettare un altro punto di vista. nel 1920, quindi siamo qua in un'epoca molto più recente, nel 1920 un giovane medico, Grozbeck, a cui è stato affidato un ospizio, un ricovero per anziani, nota che gli anziani che hanno maggiori relazioni, che sono visitati più frequentemente da parenti e amici, ammalano meno di coloro che invece vivono in una solitudine estreme. E questi ultimi si ammalano di più. E allora impurisce qualche cosa relativamente alle emozioni e diciamo così che fonda la teoria delle emozioni come situazioni che possono mettere la persona in buona salute o favorire le malattie. Aderiscono alla teoria delle emozioni personaggi importanti come Alexander, Freud, Detlefsen. Detlefsen ha scritto un libro che ho trovato estremamente interessante che si dice, che si chiama Malattia e destino, che si chiama Malattia e destino e che propugna e espone tutte queste idee in maniera estremamente corretta, in maniera estremamente suggestiva e diciamo convincente. Nel 1950 a Heidelberg viene fondata la prima cattedra di medicina psicosomatica che viene occupata da un signore tedesco che si chiama Von Weitzsacher il cui il cui aforismo preferito è niente di organico e senza senso e niente di 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 psichico e senza corpo. Ma sono proprio vere queste cose che dice la medicina psicosomatica o sono solo teorie? Quali sono i fondamenti biologici che confermano senza ombra di dubbio l'unità mente-corpo? E' vero quello che viene detto per la medicina psicosomatica o sono pensieri ipotesi teorie? E' vero che le emozioni distruggono ma anche costruiscono il corpo? Cercano di rispondere a queste domande due discipline abbastanza recenti che sono l'epigenetica e l'apnei psico-neuro-endocrino immunologia. L'epigenetica è la disciplina che studia gli effetti sull'espressione dei geni non sulla loro struttura ma sulla espressione. Che cosa che cosa vuol dire questo? Vuol dire che esistono esistono dei fattori esterni o interni in grado di spegnere accendere accendere poco spegnere totalmente o meno completamente la funzione dei geni senza alterarne la struttura ma come accendere o spegnere o lampadina? Lampadina c'è sempre ma funziona o non funziona benissimo questi fattori interni o esterni hanno questa capacità e andremo a vedere quali sono questi fattori l'epigenetica diciamo così che è una disciplina sopra la genetica sopra in che senso? In questo senso nel 1953 viene pubblicata la struttura del DNA e dell'RNA umani e tutti dicono benissimo adesso sappiamo cosa fare la medicina può giostrarsi sulla questione dei geni capire da dove provengono le malattie chi è più resistente chi è più suscettibile e quant'altro per questa scoperta giustamente molto importante se ben chiaro non sono a dire di no vengono premiati col premio Nobel Watson e Crick e anche Williams che non viene mai ricordato ma giusto per fare una nota una nota di costume Rosalind Franklin che è stata una scienziata che probabilmente per prima di tutti che aveva fotografato con una fotografia particolare conservata negli archivi la struttura del DNA non viene mai citata loro prendono il Nobel quelli Watson Crick e Williams ma Rosalind Franklin muore quattro anni prima che non viene mai riconosciuta un malcostume di cui poi Watson mi sembra si sia pentito e abbia fatto ammenda comunque sia l'epigenetica va a cercare quali sono i fattori chiamati fattori epigenetici epigenetici che possono modificare la funzione l'espressione dei geni e individua queste quattro entità che sono le emozioni lo stress l'attività fisica e l'alimentazione questi quattro fattori sono in grado sono in grado di modificare l'espressione dei geni questo per completezza dirò che ci sono fattori epigenetici che sono prenatali e fattori epigenetici che sono postnatali solo un esempio veloce per dire quali sono i fattori epigenetici prenatali per esempio quelli che sopraintengono la differenziazione degli organi delle cellule sono fattori epigenetici che dirigono in maniera anche un po' misteriosa la differenziazione degli organi durante lo sviluppo del corpo dell'embrione e del feto i fattori invece postnatali sono quelle che ho citato emozioni stress attività fisica alimentazione vorrei esaurire rapidamente gli ultimi due l'attività fisica che sappiamo tutti essere un'attività che produce benessere perché proporzionata all'età e all'allenamento di chi ne usufruisce accende i geni delle endorfine cioè di quelle sostanze che fanno star bene e questa attività fisica giova a dirlo anche se tutti lo sappiamo dovrebbe essere continuata nelle giuste proporzioni in età adulta oltre la terza e quarta età sempre perché aiuta l'espressione dei geni nel senso di dare queste molecole di produrre queste molecole che fanno star bene sull'alimentazione direi che è quasi pronastico dire dire che c'è un esempio clamoroso nell'ambito animale le api la differenza tra api operai e api regine sapete qual è? che all'ape regina fin da casualmente individuata fin dall'inizio viene data un'alimentazione che spegne l'attività di un di peco quindi in realtà l'ampi regina ha un gene che funziona che non funziona piuttosto che le antipi operai che hanno tutti i geni che funzionano straordinaria sta cosa e per altro per scendere per scendere per arrivare alla specie umana esiste una malattia congenita che si chiama fenilchetonuria benissimo se questa e questa cosa è individuata alla nascita come orarai è individuata attraverso i test che si fanno sempre ai neonati se a questi bambini che hanno questa patologia legata al mal funzionamento di un enzima fenilchetonuria si danno si dà una dieta priva di quei di quei di quei componenti che aumentano la fenilchetonuria l'accumulo di fenilchetoni nell'organismo questi bambini crescono normalmente mentre secondo una dieta normale se fosse data a loro una dieta normale andrebbero incontro a una patologia gravemente debilitante per causa di un mal funzionamento del sistema nervoso del cervello allora come funzionano lo dico proprio rapidamente come funzionano gli elementi epigenetici i fattori epigenetici funzionano attraverso una reazione chimica sul DNA questa reazione chimica proprio per i più curiosi può essere una metilazione o una fosforilazione del DNA che viene quindi acceso o spento molto ancora c'è da fare su questa scienza perché obiettivamente è abbastanza recente e tante cose non si conoscono ancora prendiamo in esame adesso i primi due fattori l'emozione e lo stress che sotto certi aspetti un pochettino si assomigliano ma che conviene trattare un po' separatamente come si definisce l'emozione cos'è l'emozione viene definita così è un fenomeno reattivo fisiologico reattivo fisiologico conseguente a stimolo esterno o interno reale o immaginario che si verifica nel corpo un fenomeno reattivo fisiologico dovuto a stimoli esterni o interni reali o immaginari qua è importante sottolineare la parola immaginari immaginari vuol dire prodotti della nostra mente la nostra immaginazione la nostra capacità immaginativa fenomeno fisiologico che si verifica nel corpo ecco perché l'emozione viene dichiarata essere il ponte tra mente e corpo l'emozione è pura energia è il ponte e il ponte appunto tra mente e corpo allora riassumiamo un momentino uno stimolo X emotivo mette in moto una energia che raggiungendo l'individuo provoca in lui una reazione fisica per esempio che so tachicardia tachipnea rostore pallore ma la reazione fisica avviene perché alcuni organi del corpo si sono mobilitati per produrre alcune sostanze quelle sostanze che Candice Perth ha definito le molecole dell'emozione e che cosa sono? ormoni neurotrasmettitori citochine e quant'altro la sequenza sarebbe quindi questa stimolo emotivo inoltre di una energia di cui adesso parliamo attivazione o disattivazione di vari geni attivazione o disattivazione della funzione di alcuni organi secrezione delle molecole dell'emozione e alla fine fenomeno fisico il punto ancora oscuro è quello relativo all'energia che avvia tutto il processo qual è? che tipo di energia è quella che attiva tutto il processo? cioè faccio un esempio scusatemi anche un po' banale se una persona arriva da me e mi dice tu stupido io ho una reazione se viene a me e mi dice tu stupido ne ho un'altra ma ma cos'è che registra il mio livello? cos'è cos'è la differenza tra queste due modalità espressive? sono sempre se prendiamo le singole parole sono sempre un insulto ma una ha un effetto e l'altra ne ha un altro ma che tipo di energia viene inoltrata? cosa passa tra chi mi dice una cosa del genere e il mio cervello i miei organi di senso che captano questa cosa? che cos'è? è il tono della voce sì ma il tono della voce significa energia ma che tipo di energia? ecco qua entriamo un momentino in un campo delle ipotesi che però è interessante secondo me e ne faccio cenno proprio perché non siamo sicuri di che cosa si inoltri potremmo dire che è una energia elettromagnetica? sì sì potremmo anche dirlo in fondo noi siamo un campo elettromagnetico che cammina che si sposta nello spazio il nostro organismo l'organismo di ogni animale chiamiamolo così e così pure l'animale uomo è un campo elettromagnetico che si sposta che si sposta nello spazio quindi questo campo elettromagnetico infatti viene viene sfruttato viene sfruttato per eseguire alcuni esami per esempio non so l'elettrocardiogramma l'elettroencefalogramma l'elettromiogramma ma addirittura si può misurare la differenza di potenziale elettromagnetico tra l'interno e l'esterno di una cellula attraverso la membrana cellulare e c'è una differenza e anche questa è una è una rilevazione elettromagnetica però potrebbe essere anche un'energia diversa di tipo quantistico di cui solo oggi cominciamo a capire qualche cosa l'energia quantistica è ancora un po' misteriosa ma nella sua complessità le viene attribuito la capacità di enteclement cos'è l'enteclement è una connessione globale una connessione globale dove non esiste non esiste più spazio e tempo ci sono esperimenti in questo senso che in linea di massima sarebbe interessante andare a vedere perché il tempo mi impedisce di così di definire bene ci sono degli esempi glomeri ve ne faccio le dico soltanto uno se a una persona preleviamo dei globuli bianchi per dire un gruppo di cellule particolari e le portiamo lontane da questo individuo e questi globuli bianchi li portiamo lontane da questo individuo in un'altra chilometri di distanza e con delle tecniche che non vi sto a specificare riusciamo a vedere il DNA di queste cellule è stato fatto questo esperimento ovviamente e poi cosa fa cosa facciamo l'esperimento consiste in questo inoltre un'emozione forte alla persona a cui sostanze prelevate bene vediamo che nello stesso tempo quindi senza spazio temporale senza differenze temporali il DNA lontano chilometri se l'emozione era positiva si allunga se l'emozione inoltrata al padrone di quelle cellule lontane era negativa il DNA si accorge nello stesso tempo ok lo stesso istante ecco questi esperimenti denotano che c'è qualcosa di particolare che ancora noi non conosciamo ebbene non è così azzardato non è troppo azzardato ipotizzare che qualcosa del genere possa accadere anche nella trasmissione delle emozioni cioè nel fatto che determinati fattori per singoli individui ciascuno diversamente dall'altro possa risentire e iniziare la catena di eventi che ho descritto prima a seguito di una emozione e fino ad arrivare come dicevo alla modificazione dell'espressione del genere lo stress era il secondo fattore che avevamo detto stress voi sapete tutti che è una parola inglese che significa tensione significa tensione consiste se vogliamo una definizione di stress nella preoccupazione del presente cioè la persona è stressata perché è preoccupata del presente in linea di massimo lo stress provoca delle reazioni fisiche con specifiche cioè che si verifichano in tutti in modo simile invece variano per caratteristiche eccetera le reazioni comportamentali e di cui spesso tuttavia questo è l'importante l'individuo non si rende neanche conto adotta dei comportamenti dove vogliamo andare adotta dei comportamenti di difesa senza accorgersene diciamo subito che esistono due tipi di stress l'eustress e il distress quando noi diciamo stress ci riferiamo praticamente sempre al distress quando diciamo questa persona è stressata dovremmo dire in realtà questa persona è distressata ma ovviamente per verità diciamo semplicemente stress l'eustress qual è? l'eustress è quella condizione che si realizza quando la tensione che un individuo prova è entro i suoi limiti di sopportazione e infatti l'eustress viene detto dagli inglesi anche nella lingua anglosassone spice of life cioè una un pizzico di euforia nella vita mentre il distress è chiamato kiss of death il bacio della morte perché se lo stress è prolungato a lungo se il distress è prolungato a lungo esaurisce le difese che provoca la malattia il distress anche questo questa preoccupazione questa preoccupazione di situazioni che si realizzano nel presente può essere temporaneo e allora l'organismo attraverso tutti i meccanismi che abbiamo detto prima cioè la modificazione dell'espressione dei geni nella prima fase ha un comportamento di difesa e poi se lo stimolo stressogeno viene allontanato allora tutto ritorna come prima se lo stimolo stressogeno invece prosegue i meccanismi di difesa che mettono in atto che il corpo mette in atto attraverso la modificazione dei geni e tutta la sequenza di eventi che abbiamo ricordato prima ebbene è talmente duraturo questo meccanismo di difesa che alla fine si esaurisce ed esaurendosi rispone alle malattie questo è la teoria di Hans Zemi che è ideata nel 1920 e che è tuttora tuttora vada la nota importante è che le persone spesso purtroppo non si accorgono della persistenza della presenza e persistenza di uno stress perché si abituano e quindi non è non colgono il disagio e si ammalano ecco ancora ritorna quindi l'allarme l'attenzione che la medicina psicosomatica invita ad avere mi ammalo ma allora c'è uno stress in ballo c'è qualche cosa di cui io non mi accorgo un disagio che so sul lavoro in famiglia nella mia vita nei miei affetti che so ecco questa è la situazione se un problema fisico persiste per tempo per tempi prolungati è indispensabile per la medicina psicosomatica andare a vedere questo disagio e ancora c'è e dov'è e da dove nasce la seconda scienza che ho citato disciplina che ho citato è la PNEI psico-neuro-endocrino-immunologia che è la disciplina che vede che capisce che indaga come tutti questi elementi psico-psicologia neurologia immunologia sono collegati fra di loro in una rete per cui qualsiasi situazione che si verifichi nel corpo umano mette in gioco tutti gli elementi di cui il corpo umano è composto allo scopo di far fronte alla situazione che è arrivata situazione nuova che può essere benefica può essere invece negativa ma che in una maniera o nell'altra investe tutto il corpo questo cosa si è scoperto? si è scoperto che i trasmettitori i trasmettitori i neurotrasmettitori ma anche altre altre molecole sono assolutamente colte prese tutte le cellule del corpo umano hanno dei recettori idonei a ricevere questi questi messaggeri le molecole delle emozioni possono essere chiamate anche messaggeri questi messaggeri che portano l'informazione di qualche cosa che accade nel corpo in tutte le cellule contemporaneamente attraverso la attraverso la rete ematica la rete linfatica la rete nervosa le terminazioni nervose e quant'altro cosicché ogni cellula quotidianamente anzi minuto per minuto meglio ancora secondo per secondo viene informata di ciò che accade nei vari distretti del nostro corpo e ciò avviene sempre costantemente giorno e notte 24 ore su 24 per tutta la nostra vita c'è un libro che è intitolato le carezze cambiano il DNA cosa significa? significa che ci sono dei fattori comportamentali che noi possiamo utilizzare per modificare l'espressione del DNA ovviamente la carezza è un fattore positivo che modifica l'espressione del DNA in senso buono in senso del benessere ma anche un pugno modifica il DNA il pugno modifica il DNA in senso di malessere ovviamente ecco ma c'è ancora qualcosa di più che voglio aggiungere quasi in finale del mio intervento è che ci sono certi geni modificati modificati in senso di espressione come ripeto che vengono trasmessi dalle generazioni precedenti genitori nonni e ancora prima cosa significa questo significa che un bambino non nasce tabula rasa ma nasce con delle situazioni epigenetiche anche ereditate ora voglio dire ancora anche questo se le emozioni cambiano l'espressione dei geni e quindi tutta quella cascata di eventi che ho raccontato prima tuttavia le emozioni possono anche invertire la rotta cioè modificarla in senso del benessere e su questo si basano gli interventi che le discipline analogiche propongono cioè propongono di offrire all'individuo la scoperta del guaritore inferno attraverso il quale darsi un equilibrio anima-corpo psiche-soma così da medicare i danni delle emozioni negative e correggerli con delle un nuovo equilibrio delle emozioni nuove sappiate che nel nostro corpo nulla è definitivo l'emozione buona l'emozione corretta lo stato d'animo sereno è capace di modificare il numero delle cellule nervose le sinapsi tra le cellule nervose e quindi modificare anche la struttura di alcuni centri nervosi e pertanto modificare anche l'atteggiamento verso la vita in una situazione sicuramente più equilibrata di quella che poteva di partenza ricordiamoci veramente questa cosa perché cosa significa questo e cosa ci insegnano le discipline analogiche di Stefano Beneneglio che noi non siamo canne sbattute dal vento per fare una citazione dotta ma siamo fautori del nostro destino nel senso che possiamo correggendo le nostre emozioni negative possiamo darci una vita serena aspirare anche alla felicità almeno terrena diciamo così ma non come un'utopia come una realtà una realtà che l'epigenetica e l'apnei sono riuscite a dimostrare concretamente non sono quindi una una semplice speranza sono una certezza però bisogna che la persona riconosca determinate cose e che si metta alla 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 prova in discussione se volete prima di concludere vorrei se c'è qualche domanda da fare io sono qua se posso se le mie notizie le mie nozioni me lo consentono rispondere lo faccio molto volentieri quindi se c'è qualcuno che vuole intervenire prego se no continuo io con un'ultima cosa c'è qualcuno che vuole intervenire ok dove è il punto eccezionale ed eccellente della disciplina neologica su questo argomento è la capacità di andare a trovare in termini rapidi quali sono nel passato di ognuno di noi i nodi emotivi non elaborati che fungono da serbatoio di energia negativa che si riversa sul presente e ci obbliga ci mette in una sorta di prigione di gabbia dalla quale non riusciamo ad uscire cosa vuol dire elaborare le emozioni del passato cosa vuol dire sminuirne il potere vuol dire oltre ad individuarle attraverso un meccanismo che si avvale della comunicazione non verbale simbolica e quant'altro metafisica e quant'altro andarle ad individuare quali sono questi osservatoi perché spesso noi per i nostri meccanismi di difesa non ce ne accorgiamo ma oltre ad andarle individuare rapidamente anche fin dalla prima incontro andarle ad elaborare cioè a rivivere emotivamente non ricordare semplicemente ma elaborarla significa proprio riviverla emotivamente questo questo modo di rivivere le antiche emozioni compresse non espresse ti consente di depotenziarle e di impedir loro di agire a distanza di tempo ancora nell'oggi questa è la diciamo la soluzione che amo chiamare magica proprio per utilizzare un aggettivo coinvolgente che le discipline analogiche di Stefano Bene meglio offrono vi ringrazio dell'attenzione vi saluto buona giornata dell'analogista grazie 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 a voi grazie grazie a lei grazie a voi grazie a voi